Chiusa la fase eliminatoria il campionato di eccellenza entra nel vivo questo fine settimana il via i playoff per decretare la squadra che rappresenterà il Molise nel prossimo campionato di Serie D. La formula messa a punto dal presidente Piero Di Cristinzi ha previsto un girone all'italiana con gare di sola andata. Le prime quattro hanno maturato l'accesso alle semifinali che si svolgeranno questo weekend e domenica 13 giugno a seguire la finalissima prevista sabato 19 giugno con buona probabilità da giocare al Selvapiana di Campobasso in campo neutro. Pronostici rispettati per le prime due posizioni Aurora Alto Casertano e Di Sernia hanno maturato la possibilità di giocare in casa al ritorno delle semifinali e poter contare sulla possibilità di pareggiare al termine dei supplementari nel return match. Infatti secondo il regolamento se al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. In caso poi di perfetta parità saranno disputati tempi supplementari ed in caso di ulteriore pareggio accederà alla finale la squadra che al termine delle sette giornate della regular season aveva conseguito la migliore posizione in classifica. Nelle gare dei playoff inoltre non sarà considerato doppio il valore delle reti segnate in trasferta. Discorso diverso per la finalissima dove le due squadre si affronteranno senza alcun vantaggio sino ad arrivare all'estrema possibilità dei calci di rigore. Ebbene come detto pronostici rispettati l'Aurora Alto Casertano ha comandato dall'inizio alla fine eccezione fatta per il pareggio maturato mercoledì a Termoli. Per uno strano intreccio la semifinale sarà proprio contro i giallorossi in un revival ravvicinato della sfida andata in scena due giorni fa. Le danze si aprono proprio al Cannarsa con il ritorno previsto domenica 13 giugno a Capriate al Volturno. Affaticato più del dovuto Lisernia di mister Di Rienzo e Bianco Celesti hanno ottenuto il secondo posto solo dopo il pareggio maturato all'Ancellotta contro il Venafro. Ne ha fatto le spese il Boiano che ha chiuso a 10 punti insieme a Termoli e Venafro con la successiva eliminazione per classifica a Vulsa. Qualificazione mancata per un soffio dai ragazzi di Carmelo Gioffre il Boiano ha dimostrato di potersela giocare alla pari nonostante una rosa di età inferiore media rispetto a tutti. Peccato perché per quanto visto i Mattesini avrebbero meritato l'accesso alle semifinali poco male il futuro è radioso per i Biancorossi che con la conferma dell'organico attuale e qualche piccolo ritocco potrà dire la sua per il vertice nel prossimo campionato d'eccellenza. Pronostici in parità nel derby tra i Serni e Venafro, al contrario nell'altra sfida i favori sono in favore dell'Aurora Alto Casertano. La squadra di mister De Rosa vuole chiudere i conti già in gara 1 al Cannarsa. Attenzione però, i playoff sono delle gare a parte dove può succedere di tutto e spesso le qualificazioni si decidono per episodi. Via dunque alla fase finale per decretare la società vincitrice del campionato d'eccellenza 2020-2021.